Ultima chiamata di Charles Bukowski Totalmente sfatto alle due del mattino, ma non preoccupato di dover trovare una donna o di dover tornare a casa in un'auto della polizia. Tutto quel che ho da fare è sgambettare fino alla stanza accanto, crollare sul letto e dormirci su. Ci penserà la mia mogliettina a rincalzarmi. Puoi finire tranquillo, ma non puoi cominciare tranquillo. Prima devi guadagnarti gradi con la dea bendata, e anche dopo non puoi restare tranquillo troppo a lungo. Io so che darò di matto almeno altre quattro volte, prima di meritarmi il funerale, ma per adesso sgambetterò fino alla stanza accanto e gli dei commenteranno sorritendo «Gesù Cristo, questo è lo stesso tizio che affrontava mostri nei vicoli bui per il solo gusto di fare una bravata!» «Là fuori c'è qualche dannato buffone che un giorno prenderà il mio posto, e intanto, guarda qua, mi è rimasto un ultimo sorso di birra e un mondo alla rovescia. Per un po' tocca a voi, mi tiro indietro. Non potete diventare tutti me, ma almeno, cercate di non diventare greggie, vi prego!»